Ciao a tutti, specialmente voi che siete a casa, io mi chiamo Zoran e qui con noi a Telediv abbiamo Gary Kraus oggi. Buongiorno, ciao, come stai? Lui è il direttore dell'Adventist Mission, andiamo a fare un'intervista per domandargli qualcosa, qual è il tuo ruolo Gary nel ambito della missione? Allora, io sono il direttore, l'ufficio della missione adventista si occupa di due aree, la prima è la missione globale e l'altra è quella di creare consapevolezza della missione. La missione globale è il creare nuove chiese in nuovi luoghi e tra nuovi gruppi di persone e questo progetto è stato lanciato nel 1990 durante la sessione della conferenza generale a Indianapolis e quindi sponsorizza e sostiene la creazione di chiese nel mondo e l'altro aspetto è quello di promuovere la consapevolezza della missione, per esempio che cosa succede quando io do le mie decime o le offerte per la missione, che cosa sta succedendo nella missione attorno al mondo, vogliamo mantenere viva la consapevolezza della missione tra i membri di chiesa per permettere loro di dare alla missione la sua vera importanza. Tu hai parlato riguardo al fatto che sei direttore dell'Adventist Mission, cosa sono gli Adventist Mission pionieri? Sì, noi li chiamiamo pionieri della missione adventista e si tratta di persone che creano delle chiese, sono dei laici che ricevono una formazione essenziale e poi vengono inviati in una cittadina o in una città o in un villaggio dove non ci sono adventisti del settimo giorno ed essi hanno un compito ed è quello di creare una nuova congregazione, una nuova chiesa adventista del settimo giorno e quindi il pregio di questi pionieri è che stanno lavorando tra la loro gente, conoscono la lingua e la cultura del posto e vivono tra la gente allo stesso livello socio-economico. Sono delle persone che hanno una forte passione e consacrazione per il Signore e che seguono il metodo di Cristo nel socializzare con le persone, nel mostrare la loro simpatia, nel dare loro assistenza ai loro bisogni e nel conquistare la loro fiducia ed infine nel portare persone a Gesù. Inoltre essi ricevono solo un piccolissimo stipendio per vivere e hanno appena fondi sufficienti per affittare una piccola stanza e hanno poco materiale e poi creano nuove chiese. Beh, una cosa emozionante, dicci riguardo alla tua esperienza sul come sei entrato nell'ambito missionario, qual è stata la tua passione? Ma penso che sia nel mio sangue, i miei genitori erano missionari e quindi io sono nato da genitori missionari sulle isole Fiji e ci siamo trasferiti dall'Australia e poi siamo andati in Nuova Zelanda e poi di nuovo in Australia e credo che fin da quando ero un bambino ogni notte ci inginocchiavamo e pregavamo per i missionari nelle isole, cioè per le isole del Pacifico del Sud. Eravamo abituati a pensare a loro, quindi la missione è sempre stata presente nella mia vita e poi ho ricevuto una chiamata a lavorare per la conferenza generale ed è lì che ho cominciato a concentrarmi sulla missione globale. Qui possiamo leggere che in qualche modo voi avete qualcosa come cinque centri di studio per Global Mission come il giudaismo, l'islam, l'induismo, il postmodernismo, il secolarismo. Quali sono gli scopi di questi centri? Allora, se consideriamo la storia della missione avventista nel corso degli anni, la stragrande maggioranza delle persone che sono venute a far parte della nostra Chiesa sono dei cristiani di altre confessioni oppure degli animisti. Ma ci sono questi blocchi enormi di religioni nel mondo verso i quali non abbiamo ancora iniziato a costruire dei ponti, comunicare con loro ed è quasi come se non esistessero. E quando la missione globale è stata fondata nel 1990, uno dei compiti che ci sono stati assegnati, infatti il compito principale dato al progetto di missione globale è stato quello di trovare il modo per condividere la buona novella di Gesù con i gruppi di persone con i quali non avevamo avuto alcun successo. Quindi questi centri di studio in realtà dovrebbero essere chiamati centri missionari, non sono dei centri accademici dove uno si inventa delle teorie. Questi sono dei centri che trovano metodi, modelli e risorse per aiutarci a capire meglio le persone che vengono da una tradizione religiosa diversa dalla nostra e abbiamo bisogno di capire le persone prima di iniziare a parlare con loro. In questo modo possiamo essere molto più efficaci nel costruire dei ponti verso di loro e nel condividere la nostra comprensione di Dio e le nostre credenze se sappiamo da dove loro provengono. Cioè che avete un qualcosa anche chiamato facitore di tende, cioè cosa sarebbe esattamente? Sì, allora i fabbricatori di tende sono membri di chiesa che vanno a vivere in una zona geografica specifica e prendono l'iniziativa di trovarsi un lavoro. Sono forse dei medici, degli infermieri, degli insegnanti e così vanno ad abitare in questa zona e si autofinanziano al 100%. Ma il loro scopo è quello di voler essere un testimone nella comunità nella quale si sono trasferiti e quindi i fabbricatori di tende si collocano strategicamente in luoghi dove non si può vivere apertamente come missionario cristiano oppure dove la testimonianza è illegale o pericolosa. Quindi queste persone vivono in queste zone e iniziano la loro attività, sono attivi nella loro professione ma hanno un altro compito e cioè vogliono creare un nuovo gruppo di credenti oppure vogliono essere dei testimoni nella comunità. All'ultima conferenza generale tu hai parlato delle sfide che sono nell'ambito missionario. Ci puoi ricordare alcune di esse? Le sfide della missione? Beh, allora parliamo sempre della finestra del 1040. Si tratta di un'area che si estende dal nord ovest dell'Africa che passa per il Medio Oriente e che copre l'Asia e questa area è dove il 60% della popolazione mondiale vive. In altre parole è dove vive la stragrande maggioranza dell'umanità e queste persone, la maggior parte di esse, non hanno mai sentito parlare nel nome di Gesù e quindi ecco la prima sfida per la missione. E poi ci sono le popolazioni secolarizzate, postmoderne che sono in aumento e non è solo nell'Europa occidentale, in Australia o in Nuova Zelanda ma anche in luoghi come l'Asia e l'Africa. Quando ci spostiamo nelle città troviamo che questo tipo di popolazione è in aumento. Questo ci porta alla terza sfida, cioè le città. Esistono aree urbane enormi. Nel 1902 Ellen White aveva già detto, e sto parlando di 100 anni fa, Ellen White aveva detto che avevamo trascurato le città e penso che se tornasse in vita oggi direbbe esattamente la stessa cosa, perché quando analizziamo dove i membri della chiesa avventista si trovano, la stragrande maggioranza degli avventisti del settimo giorno si trovano in zone rurali o nelle isole. Quindi queste sono le tre grandi sfide, ma ne voglio aggiungere un'altra. La sfida della missione più importante che ci confronta come avventisti del settimo giorno è la mancanza di coinvolgimento da parte dei membri di chiesa nella missione. Questa è davvero la sfida più grande, la mancanza di coinvolgimento. Quindi penso che adesso abbiamo un video che vorremmo condividere con i nostri amici a casa. Mettiamo il video e guardiamo un attimo. Come avventisti noi adoreremo in varie chiese questo sabato, però meno di 80 credenti avventisti si incontreranno qui in Turchia. Ci sono meno di 80 membri avventisti battezzati in Turchia. Attorno al mondo le nostre statistiche sono di un avventista per ogni 424 persone. Qui in Turchia sono un avventista per ogni milione di persone. Che sfida gigante. Ma non è solo qua. Pensate alle grandi popolazioni che vivono nei territori del Nord Africa o dell'Asia. Qui in Tibet c'è una ricca storia di cultura e di religione. Qui ci sono persone che sono molto ingaggiate e molto spirituali. Però sono 20 anni che il progetto avventista di missione globale ha cominciato e la chiesa avventista non fa parte della storia del Tibet. Non esiste neanche un credente avventista qui. Mentre cammino per le strade vedo molta povertà. Vedo piccoli bambini che vengono da me a chiedere soldi. Mentre guardo nei loro occhi mi faccio la domanda ma quale sarà il futuro per loro? Io so che Dio opera in tutte le culture e in tutti i popoli. Egli sta operando nei cuori e nelle menti delle persone per portarle a sé. Ma lui ci ha chiamato a condividere il suo amore. E quando considero il Tibet, quando considero le popolazioni enormi in Asia, le enormi città e la gente, la maggior parte di loro non ha neanche sentito parlare del nome di Gesù. E penso alla incredibile differenza che potrebbe fare questo nelle loro vite. Il sapere che c'è un Dio che li ama, che si occupa di loro e che non devono avere paura di un mondo dominato dagli spiriti. Dio ha un progetto e ci ha invitati ad ognuno di noi a far parte di questo progetto. Dobbiamo solo dirgli di sì. Sapete, penso ad altri territori nel mondo. Penso a regioni che sono molto differenti da queste. Posti dove il cristianesimo fu molto forte in un momento nella storia. Però adesso sta morendo. La città di Ginevra fu uno dei luoghi più importanti della riforma protestante. È difficile credere, però questa città oggi è diventata una delle città più secolarizzate di tutta Europa. Dietro di me c'è il muro della riforma protestante, che commemora così tanti leader della riforma protestante, che diedero la loro vita e che diedero loro tutto per il Vangelo. Ed il motto sopra di loro dice in latino, dopo l'oscurità, la luce. Ed è per questo che loro lottavano, per la luce di Gesù Cristo. Però ci dobbiamo chiedere che cosa penserebbero questi riformatori protestanti dopo l'oscurità, la luce. Perché vediamo che il cristianesimo in tutta l'Europa comincia a decadere. E quella luce per la quale i riformatori si sono battuti, che cosa porterà il futuro? Dietro di me, qui ad Istanbul in Turchia, c'è il ponte sul Bosforo. Un ponte che collega due continenti, l'Europa e l'Asia. L'Europa con la sua popolazione cristiana in declino e l'Asia con la sua popolazione che esplode, il 60% della popolazione mondiale. La maggioranza di questi gruppi di persone non ha neanche sentito parlare del nome di Gesù Cristo. Quindi è bello che celebriamo il progresso della Chiesa attorno al mondo e ringraziamo Dio per questo. Però non perdiamo mai di vista il bisogno e continuiamo a pregare e a sostenere e continuiamo a lavorare per portare l'Evangelo ai vasti numeri di persone che hanno ancora bisogno di conoscere Gesù Cristo e di conoscere il messaggio che abbiamo da condividere con loro. Non mi dimenticherò mai alcuni anni fa quando stavo viaggiando per la Thailandia e vedevo passare città dopo città e dopo città, città con più di un milione di persone e neanche un avventista. Non mi dimenticherò mai di stare viaggiando per le autostrade giganti della Cina e di vedere palazzi con appartamenti, palazzi e palazzi e palazzi ancora, centinaia di famiglie e ogni palazzo era in se stesso un campo missionario, ma nessun credente cristiano. Non mi dimenticherò mai di quando sono andato alla costa est dello Sri Lanka ed ho parlato ad un uomo che aveva la vita devastata e egli mi ha fatto vedere l'abito di cotone che la sua giovane figlia indossava prima che arrivasse lo tsunami. Un paio di giorni prima era stata spazzata via dallo tsunami che uccise decine di migliaia di persone. Non volete che Gesù torni? Quando pensiamo a quello che dovrebbe essere il nostro ruolo come credenti nella chiesa avventista, quello di operare contro la povertà e l'ingiustizia ed il dolore e le ferite, ma non vogliamo forse che Gesù finisca con tutto questo? Oggi celebriamo i 20 anni della missione globale, è il ventesimo anniversario e lodiamo Dio per la meravigliosa crescita durante questo periodo, da 6 milioni di credenti a quasi 17 milioni di credenti, migliaia di nuove congregazioni, nuove nazioni che si sono aperte, nuovi gruppi di persone che hanno accettato. Ringraziamo Dio per tutto questo, però dobbiamo affrontare la realtà che oggi sul pianeta Terra ci sono più persone che non conoscono Gesù Cristo che vent'anni fa. Dio ha un progetto per questo mondo nel quale viviamo e Lui lo porterà a compimento. La domanda è parteciperemo al progetto al quale Lui ci ha invitato a partecipare, vediamo i fatti, vediamo le offerte finanziarie a favore della missione in declino e vediamo che oggi inviamo meno missionari di quanti ne inviavamo prima. Abbiamo molti meno pionieri missionari nel mondo di quelli che dovremmo avere, con così tante necessità e con così poche risorse. Eppure, se accettiamo l'invito di Gesù, che non c'è limite su quello che Lui può fare per noi, non esiste limite su quello che Lui vuole fare attraverso di noi. Sapete, mi ricordo alcuni anni fa di aver incontrato una persona ingaggiata nella missione globale, Kura Bai, e Lui viveva nel villaggio di Muassala, nella parte sud del Chad, e uno non può andare in un posto più isolato nel centro dell'Africa. Il suo viso aveva le cicatrici dai rituali che mostravano il suo passato, ma i Suoi occhi erano pieni dell'amore di Gesù Cristo, perché Lui aveva accettato Gesù come il suo Salvatore, ed adesso stava fondando una nuova congregazione a Muassala, ed io mi sono incontrato con le 50 persone che Lui aveva portato al battesimo, gente che erano ex ubriachi, ex prostitute, non c'è limite su quello che Dio può fare attraverso di noi. Mi sento di fare un appello e chiamarvi a farvi avanti, però non lo farò, voglio fare un appello al vostro cuore. Mentre Kelly suona il piano e Jennifer canta, voglio prendere questa opportunità per chiederti di rinnovare la tua promessa, la tua promessa di fare quello che tu puoi per sostenere, per essere coinvolto nella missione di annunciare al mondo Gesù Cristo. Vorremmo domandarti un'ultima cosa, Gary, e l'ultima cosa è che cosa vorresti esattamente magari comunicare o dire alle persone che ci stanno guardando, persone che guardano questa intervista sulla televisione oppure sul DVD, cosa vorresti trasmettere loro per dare la passione dell'ambito missionario? Certo, grazie. Prima di tutto vorrei ringraziarvi di cuore per il vostro costante sostegno della missione con le vostre preghiere e con le offerte per la missione e le decime, perché tutto questo fa una grande differenza in tutto il mondo. Ed in secondo luogo voglio lanciarvi la sfida, assicuratevi di essere ingaggiati nella missione, assicuratevi di non passare la vita seduti sulle panche della chiesa e di pensare che questo è il cristianesimo, non siete degli osservatori. Pregate a Dio e chiedetegli che tipo di opportunità Lui ha per voi, per te, per ingaggiarti nella missione. Non tutti possono stare davanti e predicare un sermone, non tutti possono andare e dare uno studio biblico, però Dio può aprire opportunità dove tu puoi essere la persona che si prende cura di qualcuno o la persona che ascolta o la persona che cerca in un modo di ingaggiarsi nella propria comunità. Ellen White, come ho detto prima, ci dice che solamente il metodo di Cristo ci darà il vero successo e questo metodo è il socializzare mostrando compassione, rispondere ai bisogni della comunità, conquistare la fiducia e poi condurre le persone a Gesù. Quindi assicuratevi di star socializzando, assicuratevi di non rimanere solo dentro il perimetro della chiesa avventista, assicuratevi di socializzare con gli altri nella comunità, diventando quindi la presenza di Cristo per altre persone. Grazie Gary perciò e vorremmo concludere adesso l'intervista nel domandarti qualcosa di particolare. Vorresti pregare per noi come persone laiche affinché possiamo essere coinvolte nell'ambito della missione e questa passione nel nostro cuore possa crescere affinché la chiesa possa avere dell'opportunità affinché noi possiamo cogliere. Certo, certo sarei felice di pregare, preghiamo. Padre meraviglioso, l'odiamo il tuo nome anche oggi e ti ringraziamo Signore per il modo in cui hai condotto la nostra chiesa, ti ringraziamo per la crescita meravigliosa in così tante aree, ma Signore siamo ancora qui, la sfida rimane ancora e chi è sufficiente per compiere queste cose? Noi no, ma sappiamo che tu lo sei e noi vogliamo essere degli strumenti in mano tua per fare parte del tuo progetto e condividere la tua salvezza in tutto il mondo. Perdonaci Signore per i momenti quando noi come chiesa abbiamo centrato la nostra attenzione verso l'interno, verso i nostri bisogni, quando ci siamo concentrati verso l'interno della chiesa al posto di volgere il nostro sguardo verso l'esterno. Aiutaci Signore a sentire una forte responsabilità, a sentire nel cuore ad avere compassione, la stessa compassione che Gesù ha avuto per le folle. E Signore ti prego di aprire nuove opportunità per usare i doni che tu ci hai dato, per essere i tuoi servitori. Preghiamo Signore che tu espanda la tua chiesa e che tu costruisca il tuo regno e che tu venga presto. Chiediamo nel prezioso nome di Gesù. Amen.